Ci puoi un pochino elencare le persone e soprattutto su qualcuno di l'ogito fermiamo a parlare? Sì, in effetti abbiamo una lista di professionisti, imprenditori, commercianti, persone del popolo, ovviamente, che sono impegnati nel sociale e possiamo iniziare con il capolista, l'avvocato Michele Florimo, avvocato penalista. Continuando abbiamo Girardi Domenico, commerciante, spiotta Veronica, esperto in comunicazione sociale e politica istituzionale, Massimo Marra, che è commercialista, il professore Nicola Selvodio, che non sono qui io a presentarvelo, poiché negli anni ha dimostrato coerenza e quindi abbiamo accettato la sua candidatura all'interno della lista che ha dato un maggiore spessore, sia da un punto di vista culturale, ma soprattutto da un punto di vista morale. Gli altri ragazzi sono l'imprenditore che ho qui a fianco a me, Cristian Campareri, che si distinguono nella società civile e nella vita di tutti i giorni per essere imprenditori di successo. Abbiamo altri ragazzi molto importanti, come Tommaso Bello, che anche lui ha creato una rivista, di cui ovviamente io sono fiero di averlo con me. Gli altri ragazzi sono due giovani, l'Azillo Rita, studentessa universitaria, Giuseppina Cillo, che è un lavoro dipendente. Dopodiché, non dimenticandomi di nessuno, stiamo parlando di Porcelli Pierpaolo, amico di infanzia che ha voluto condividere con me questa esperienza politica. Lui mi diceva sempre che sarebbe sceso in campo solo ed esclusivamente se mi fossi candidato io e io lo ringrazio pubblicamente. Insieme agli altri vogliamo condividere questo progetto politico che è per il paese, di rinascita di questo paese. Noi abbiamo intenzione di creare un'altra volta quell'humus, quel substrato di crescita esponenziale sia da un punto di vista agricolo e montano, ma soprattutto culturale del paese, poiché a Cervinaro non si parlerà più di paese, ma si parlerà di cittadini che si interessano alla vita politica, perché stando lontani dalla vita politica i cittadini per variati anni hanno permesso a questi signori di fare il comodo loro, mentre noi cercheremo con l'ausilio di tutti di dare un nuovo slancio al territorio, una nuova politica che guarda soprattutto agli interessi dei cittadini e non agli interessi particolareggiati e ci sentiamo di dire che attualmente a Cervinara ci sono una nuova alba, poiché è stata fatta una lista che parte con un'organizzazione e una programmazione. Siamo gli unici che abbiamo un programma condiviso da tutti quanti, siamo partiti con il consumo di solo zero e attraverso questo consumo di solo zero. Ti stoppo perché altrimenti la gente sente già la tua programmazione e c'è una campagna elettorale da fare. Chiudiamo con una domanda che più che altro riguarda te personalmente, una domanda che si vede dal volto che traspare l'emozione, perché è vero che sei partito a settembre con il movimento, però ti ho sempre sentito parlare molto più aperto, oggi l'emozione tranquilla. Cosa provi personalmente a guidare una lista che va a cercare, definiamolo tra virgolette, un posto al sole, a dire amministrare Cervinara? L'emozione è evidente, poiché mi trovo a capeggiare una lista come candidato sindaco, ma soprattutto l'emozione è forte poiché l'impegno che dovremmo mettere nel momento in cui vinceremo, perché siamo convinti che i cittadini ci daranno la vallo a questa lista che è partita con un'idea chiara, un'idea che deve stravolgere le condizioni attuali di questo Paese, perché se da altre parti, come dicevamo anche negli altri comizi, c'è la crisi, a Cervinara c'è la miseria.